Allora Quanti che pesano? Babbel PURCO DI- Un po' è incasinato da vedere Un po' è incasinato Vi piace il beton? No È verto un po' Quindi apriamo Ma vedi che non c'ho cazzo? Quanto cazzo è spesso? Qua c'è Dove è bolla per aiuta? Qua c'è bolla per aiuta? e 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 bello mi piace cerchiamo un bpm e 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 bello dell'ospedale bello dell'ospedale ah che cazzo devo aggiungere? allora dai che ovvio come lo chiamiamo? e ok I I I I What are you doing? What are you doing?